Buon santo Stefano a tutti, buon santo Stefano a tutti dalla signora Titina, come state? Eh Samara scusate, stoccatevi se lo coglie bene cacca, ma dalle una mano, tappa di piatta, bene cacca, tutta la confusione che cominciavo, oggi si mangia il rimesuglio di quello che rimane, a me è un malestroneante, mi caglieremo e mi fottevo tutte cose, oggi alla leggera, oggi ho fatto un po' di bollito, tagliata che bello, con il brodo ci faccio i tortellini e poi ho fatto il mio ciambellone con 75 uova, tagliata che bello, vedi? Ma anche mia, chi c'ha? E chi me manca? Chi c'ha? Un sopallo levare in mucca di cui io alcune cose, si va alla leggera, chi ha avuto persone fa sbarazza, sbarazza anche lo frigorifero, vero è? Dice, piglia chi se mette la tavola, piglia chi se mette la tavola, io ieri mi passo a mangiare, tutta in atto, a mangiare il botto come una betumiera, picchierezza il signore mio, ma a Natale viene solo una ruota, ho messo le carotine nel bollito a misura d'uomo, a misura di penò, ma cari penò l'ha vista così, ecco qua, guardate le cari, ma cari, come accontentarsi, però le carotine si mettono così nel bollito, capito? no, piccoline, piccoline, che uno si trova, ho vede? Ecco qua, signori miei, come a fare? Oggi è una giornata, ho freddo, ho freddo, ma chi? Adesso mi chiede, cari l'aceto, non vuoi fare con io, e disse allora se ci va un po' di bollito quest'oggi, che aveva il tuo freezer sul bollito, che l'ho comprato qualche tre anni fa, non scuidato il tuo frigorifero, il tuo freezer, e che cos'è questa cosa? ha la pivo ed era bollito, capito? Fiuci, ah, io non mangio un brodo solo, mia madre sono fissa io, ah, che ne faccio fottere, ah, va bene, con la speranza che a penuccio ci faccia male, ma chi suave i buriezza, chi macinano, macinano, chi su se mancia puro un fierro, ed è sempre intatto, non si butta niente, capito? Non si butta niente, chissà, ecco il patto, questa madre, ho capito? L'altra volta ci ho detto, puliamo il frigorifero, io da picchio si è bollito, e arruccò su tutte le pesie, e disse, immaginale, stamattina era a pivo, e disse, ma cazzo, ho mangiato le pesie, vieni qua, vieni qua, è piatta, è piatta, subito, subito, taglia come ho le mani, chi gelone l'ho io, chi gelone, che avevi 5 camaterata che c'hanno giù per fare il suo ciamberlone, alle mie cognate volevo dire, a voi vi viene così? il ciamberlone, con questa speranza potete stare, che non vi viene così, guarda beh, a voi vi viene pezzi caibone, ho capito? pezzi caibone, perché manco sapete cucinare, quindi, oggi, mi sono permessa di mostrare, disamorata sei da fare un tosse che bene è, mi è piuttosto che sta con la panza, qui che su manciocca ha un pezzo, taglia, già ne manca un pezzo, già ne manca un pezzo, qui? ah tu Pino? Pino su manciocca, Pino, tutto profitto, non ti preoccupare, tutto buono, un tosse che va a fare, il ciamberlone quando io lo faccio, si mangia quando dico io, del pomeriggio, ho capito? ma vedi che cosa? si fanno sempre a bene, e allora buon Santo Stefano a tutti, buon pranzo e buona cena!